Balla a tutti ragazzuoli, io sono Focus Game Over Oggi ragazzi siamo tornati su Drogubo UnLegend Ragazzi oggi voglio farvi vedere il nuovo personaggio del gioco Il Drogubo Z Kakot Goku Nel precedente video ragazzi non vi ho mostrato ragazzi Questo buon Goku Perché non ho avuto del tempo, non volevo allungarlo troppo con i video Ve lo mostrerò in capo ragazzi Prima che abbiamo avanti lasciato un bel poliziano Seguite nuovi video come questi ragazzi Iscrivetevi raga al mio canale Lasciate betati i like e seguite sempre dei nuovi video Ma ragazzi vi faccio vedere ragazzi con voi il nuovo Goku che hanno messo E' una figata pazzesca Andiamo a fare ragazzi questo evento di Frise Aspettate che selezioni Team Ecco l'ho chiamato Team Saga Qua raga ci sono tutti i personaggi che ho messo Qualcosina di meglio Qua ragazzi ho sbocato quasi tutti Che non so raga che vuole dire Bot with due botte super warrior Chatter on wall Raga sotto nei commenti ditemi voi cosa significheremo Allora intanto mi porto Questo buon Goku Poi Trunks E mi porto Goku bambino Ragazzi sono carico a massimo per farvi vedere raga Questo nuovo personaggio Lo analizziamo pure insieme raga Solo raga che purtroppo questo Goku Forse vi farà deludere un pochino Purtroppo questo Goku Non può trasformarsi in Super Saiyan Perché l'agionamento che hanno fatto Della Badai Namco Purtroppo questo Goku E non hanno messo a trasformazione in Super Saiyan Ora vi faccio vedere Guardate che animazione quando fa il camion Ma no che figata No schiva ma santa filipina Perché sono stupido Oh Qui si è Ma rotto già il cuore Oh No Vabbè Fungu Scotto trago Quel friso Vedete pure raga che figata Ma no raga Quanto hai vinto Kame cazzo Non mi sto facendo girare i coglioni Quanto picchia raga Con un po' degli teta sporti Che figato stu Goku La mossa di Trunks raga Che l'ho pure sbloccata Che figato su Goku con la nuvola Speedy Vi dispiace ragazzi Che sarete di sicuro molto delusi Che questo non è Goku Come vi aspettavate Vi aspettavate Scusate ragazzi L'ho detto male Vi dispiace raga Vorrei farmi perdonare In qualche modo Ma sapete ragazzi Che ho poi scoperto Se porto per sé più Un personaggio solo Tipo Charlotte Fa molti più danni Ora vi faccio vedere Ho messo pure una nuova mossa Guardate Fatte lo sale con un solo personaggio Ho sostituito raga A questo Goku E questo Goku raga Ed ecco il mio team Ho messo raga Le gogette del film Guardate Porto solo un personaggio Charlotte Posso spaccare il culo Raga In una maniera Assurda Raga Guarda raga Che è di realtà Super segnante Fa molti danni Con una nuova mossa Che gli ho messa Vi faccio pure vedere Tanto ragazzi Vi faccio pure vedere Hanno aggiunto Una piccola Nuova Passamone Che è un aggiunto Vieni qui Faccia Faccia da minghia Te Testa di culo Madonna qua Brutta Capocchia Adesso è il mio Te Succhiami Il pisello Il carico Eh no no Reddiamo Stella Vai Ma non è santa Eh vabbè Troppo foto Volevo farvi vedere Raga Con i versi Crash Vabbè raga Avete visto Che è un buon personaggio Scusatemi Anche raga Per questo Goku Di sicuro Non è quello Come vi aspettavate Ma questo Goku Avete rotto E pale Basta Che cazzo Vedrò Madonna Io voglio uccidere Quella panisona Di me Vi dispiace Anche per la delusione Che avete visto Non è il Goku Come vi aspettavate Guarda raga Per farvi vedere Lo userò Di nuovo Però Lo porto Solo a lui Lo porto Questo E vai Di sicuro Ragazzi Non era Come Goku Vi aspettavate Come nel video Me ne avevo parlato Che purtroppo Ragazzi Questo Goku Non hanno messo A trasformazione Super Saiyan Vai 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 Che figato Questo intento Aspetta Vedete Si dice pure Che Raccattato Raccattato Oh Sai Hai rotto Le palle Hai finito Che ti spara Un cacicu Ora Guardate Di nuovo Vedete Si può solo Curare Come visto Come cazzo Però Non è che figo Però Quando Goku Eh Quando Battere I nemici Va Sulla Nuvola Speedy Io Raga Ce l'ho Pure A Tre Stelle Vorrei Capire Solo Con Son Family Come cazzo Rola Dove Fare Un Risi Crush Con La Famiglia Ho Provato Raga Con Un Bordello In Voter Ho Cato Raga Puro Un Team Nella Mad Proprio Allora Proviamo A portare Go An Goten E Questo Goku Gli altri Che ha messo E Tanks Futuri Da Kubo Super Vegetta Le Fime Bad La Vecchia Spakig Adesso Ragazzi Vorrei Trovare Il Mordo Perché Io Raga Sono Ancora L'unico Coglione Che Non Ancora Trovato Quella Che Fa E Que Gotenks Ma Niente Non L'ho Trovato Succia Mia Cacca Si Ma Sen Ko Teto Fido Tu Senza Stelle Raga Fote Lo Stesso Pichami 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 Testa Di Culo Pichami Pichami Questo Gohan Si Trasforma Questa Niente E Una Piccola Cura Si Fa Ma Ski Mi Mi Ha Sottito Ecco Mi Aspettavo Che Questo Gohan Si Trasformava E Non Che Facesse Solo Così E Ecco La Andiamo A Tutti A Cagare Vabbè Raga Io Ci Ho Provato Non È Raga Che Sia Un Cacca Come Tile Ma Prima Di Chiudere Volevo Che Raga Farvi Vedere Quest No Anzi No Niente Raga Quello Raga Che Voglio Farvi Vedere È Qua Prima Che Chiudo Raga Con Attimo Che Ragazzi Sono Stato Informato Da Da Mio Caro Amico Che Lo Saluto Black Fabio Super Saiyan Rosé I Super Saiyan God Per Il Personaggio Shallot Non Ce Faranno Ancora Ottenere Mi Ha Informato Nel Prossimo Anniversario Ha Fatto Sapere I 26 O I 27 Quello Che Sia Raga Che Spero Nel Prossimo Aggiornamento Che Ce Lo Fanno Fare Raga Mi Chiedevo Pure Raga Se Comprando Raga Questo Qua Del Lato Goku Disicuro Già Sarebbe Eccolo Il Livello Da Spaccare Il Culo Tipo Che Ne So Una Testa Di Culo Vabbè Io Ragazzi Da giorni Coppavo Sempre Questo Go Quello Che Fa La Genki Dama Allora Vediamo Questa Roba Che Mi Servirà Pot Se Mi Botto Uno Dei Personaggi Pro Senza Quelli Raga Non Mi Posso Potenziare I Personaggi Che Fa Anzi Non Proprio Che Vorrei Chiuderlo Io Direi Facciamo Raga Questo Evento Ero Ero Pure Raga Riuscito A Coppettare Lato Ma Cazzi All'aggiornamento Adesso Mi Ci Vola Molto Vediamo Ah Allora Io Pensavo Di Portarmi Pai Quai E Tracks Go Supporto Non So Che Cazzo La Rapportare A Baby Pad E Stagnoccon Io Ancora Raga Non Ancora Ne Trovato Que Veget Quella Raga Che Quando Fa La Spada Dallo Spirito Esce Legget I Finish Che Proprio Animazione A Top Se Esco Raga A Rivare Quei Ticket Che Mi Macano Posso Tenerlo Che Se Non Lo Tengo Mi Cazzo Come Una Bestia Spero Raga Tatti Per Cronocrista Ogni Volta Non Esco Mai A Trovare Quel Passaggio Che Mi Mata Te Padabum Mamma mia Come Che Palle Univata Questo Lug Vai Capir Cazzo Allora No Poi Facca E È Quasi Figato Poi Metti Testa Di Cule Cazzo No Dai Che Due Coglioni Poi Coppano Altra Sorella Stassati Bravo No Pedi Mica Bravo Cà Vai Con Una Canone A Una Mano Maronna Che Personaggio Mi Capita Vieni Qua Sto Z Tutta Toglietta Canone A Mano Perfettissimo Si Chiami Tutto Il No Cazzo Va Te Si Cazzo 4 2 Eh Vabbè Vai Metti Caccioni Nei Coglioni Scusa Goku Vai Vada Boom Veniamo Un 4 Spacca B Scusa Vai 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 Vada Quanto Cazzo Manca Scusa 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 Si Ora Paness Mia E Ti Scusa Caccia Culla l'epo papà fangulo no no pan se pan pan amottata da te come io sono scemo io avete sentito sembrava un suono di pupazzo perchè ti sembra tu batte da piccione ma che due cacca e fermate maronna pana non mi stai facendo girare i coglioni vai qua e picchia che se no mi fai e mo giuro che mi metto a best e niente come un cazzo questo e picchia guarda quell'altro stronzetto madonna per i guai che cazzettino che ti ho preso oh e che qua bravo stai così che è meglio oh ca ma manna yawaiu certo proprio che le partite non sono per niente facili mi ci vorrà raga un'intera giornata per favore chi è il prossimo eeeh vabbè facciamo solo questo allora black goku no raga a parte gli scherzi io mi sono un po' seccato raga io vorrei coccurre qui il video raga che vi ho fatto vedere solo come questo vabbè raga faccio una cosa ve lo rifaccio vedere l'ultima volta questo buon goku che cacchio sta otto tranks poi io raga poi ho trovato questa bulma una sparking con le popone belle c'è una cosa raga che dovevo fare da prima aspettate un attimo limit break così o meno oh buono 3 stelle e dovrebbe andare muovate caricamento muovate che si lento muovate ecco questa new cone a post ok andiamo anzi raga è meglio così che mi sono un po' staccato raga che non ce la faccio più che raga queste lezioni lezioni online che sto facendo raga mi fanno girare le balle marona quarta roba quarta roba di queste vabbè raga io chiudo qui spero tanto che il video vi sia piaciuto raga iscrivetevi al mio canale se non avete qua fatto vi lascio qui sotto il like e iscrizione il canale di black fabio super saianos eh che lo voglio risalutarlo saluto anche pure e nesto rovito saluto a tutti gli altri un bacione quindi raga iscrivetevi raga il mio canale raga e noi ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti bella